ecco qua ragazzi facciamo l'ultima l'ultima entrata sperando che i video siano venuti abbastanza bene non c'è nessuno siamo sudatissimi ma come vi dico sempre non vogliamo mai ok non spengo neanche l'obiettivo si va dritta in pista tutti insieme un po' Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Mi sa che adesso siamo soli anche in pista Inanelliamo qualche giro E per oggi over Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti